Buongiorno squadra, lo dico subito, la maggior parte dei guru ti dicono cavolate, assurde, è proprio l'ambiente del guru del business che ti insegna le cose, che ti ha la conoscenza per fare milioni, sono cavolate col botto e oggi appunto ti spiegherò il perché e il motivo appunto. Poi magari ci farò anche un video al riguardo, già appunto l'idea ce l'ho, del motivo per cui non sono venuto a diventare appunto io un fuffaguro, cosa potevo fare e posso fare, appunto purtroppo ci sono delle verità scomode che vanno dette, sia per il guru sia per te e oggi appunto vediamo questo, ok? Cominciamo. Arrivati a cominciare ti ricordo sempre che in iscrizione c'è tutti i vari miei link per entrare nel mio gruppo facebook, siamo 1100 su facebook, 1500 su telegram così se dubbi, domande ti rispondo io, oppure qualcun altro più bravo di me, se c'è ma non c'è perché sono io il più forte, un vero guru, dice sempre che è più bravo di tutti, io sono un vero guru. E poi c'è il link per scaricare 50 ore gratis di corsi tra cui il corso di facebook ads influencer marketing, tutti nella mia newsletter, in iscrizione, tutto gratis, non ti devo vendere nulla io, ormai lo sai baby, non ne possiamo cominciare. Ora parliamo un pochettino, ti spiego un concetto perché così poi arriviamo diciamo a quelli che sono i tre punti principali per cui comunque il guru ti dicono cavolate completamente, a prescindere dal corso, dalle mentorship, dal guru se è bravo oppure no e così via. Tu devi immaginare la carriera, la tua carriera, il successo come se fosse una piramide, ok? In cima alla piramide ci sono le cose meno importanti di tutte, ok? Allo stesso tempo queste cose, che ora ti dico, sono quelle che la maggior parte delle persone pensa invece siano le più importanti, perché è la punta, la punta è quella più bella, invece sono le meno importanti. Cosa sono queste cose? Le skills pratiche, ok? Tipo come fare, quale impostazione mettere su facebook ads, la cbo o la bio? Quali temi usare su Shopify? Questo? Debutify oppure Prestigio o altri temi? Quali piattaforma usare? Come si fa la ricerca prodotta? Ecco le migliori app della ricerca prodotta e così via. Tutte queste skills pratiche, tutte queste cavolate, che magari sono importanti, fanno pure la differenza, però non sono quelle più importanti, appunto perché dopo vediamo quelle che sono proprio alla base. Sono la vetta, ok? I guru ti vendono queste, ma si scordano a dirti tutto quello che c'è giù. Si scordano a dirti appunto che se tu non sai lavorare, non ti serve a nulla sapere usare Shopify, perché se tu hai la volontà e la disciplina di metterti tutti i giorni, una, due, trette al giorno, senza distrazioni, lavorare bene, fare uno store, non ti serve a nulla saper fare il tutorial, guardarti il tutorial di Shopify, oppure sapere quali app sono le migliori da scaricare. Non ti serve a nulla, non ti serve a nulla sapere come fare Facebook Ads, se dopo tre mesi, ok? O meglio, tre mesi a stare, se dopo tipo il primo ostacolo dici, ah no, basta, non faccio più niente, è troppo difficile. Ok? Perché magari appunto, o meglio, un'altra cosa, un altro esempio, non ti serve a nulla sapere come fare uno store di e-commerce, come fare la ricerca prodotto, se poi tu non sai quali sono i principi di marketing, come si crea un brand, che significa appunto aiutare le persone. Ok? Proprio la base non c'è. Quindi i tre motivi appunto per cui, secondo me, i guru ti prendono per il culo, in poche parole sono questi. Cominciamo. Ora, il primo punto è che alla base della piramide, ok? Proprio la cosa più importante di tutti, secondo me è la consapevolezza in se stessi, cioè essere consapevole di te stessi, guardare la tua persona da un'altra prospettiva esterna, tipo in terza persona, in una visuale di terza persona. Questo che significa? Significa che quando tu stai sbagliando qualcosa, devi capire se stai sbagliando qualcosa e cosa stai sbagliando, cosa puoi fare per migliorare. Cioè non devi fare, non devi essere allo sbaratro proprio dei guru, perché il guru ti dice X e tu fai X. Se il guru non ti dice X, tu che cosa fai? Non puoi fare nulla. Quindi devi comunque essere consapevole di quello che stai facendo, di essere lucido e sveglio, non devi andare col pilota automatico, col pilota automatico. Devi essere consapevole di quello che stai facendo, degli sbagli che stai facendo, e ti faccio alcun esempio. Dalle cose giuste, se tu stai facendo qualcosa giusto, qualcosa sta funzionando, devi capire perché sta funzionando. Un esempio della consapevolezza. Se tu lavori, non ti rendi conto, e stai sempre col telefonino mentre lavori, cioè ti distrai in 10 secondi, non ti rendi conto che ti distrai, lavori male, quella è una mancanza di consapevolezza. Cioè tu non riesci a capire quando stai facendo un errore. Al contrario, io mi accorgo che quando, e questo succede sempre, perché so che questa cosa è importante essere consapevoli, se io lavoro e lavoro male, o dico c'è troppa confusione, la casa mia è dipendisore, Dico ok, aspetta, fermiamoci un secondo, c'è qualcosa che non va. Cioè sono consapevole, dico ok, cosa posso migliorare, cosa c'è che non va. Controllo, faccio un recap, mi stacco un secondo la spina e dico ok, fermi. C'è qualcosa che non va, devo resettare qualcosa, devo organizzare le idee perché appunto c'è troppa confusione. Oppure oggi ho lavorato male, perché ho lavorato male, cosa posso migliorare? Cioè questa consapevolezza di se stessi ti aiuterà tantissimo appunto ad avere successo. È la base questo, ok, di tutto. Punto numero due, non mettersi gli obiettivi giusti e non sapersi mettere gli obiettivi giusti. Ok, tu non puoi dire, ah, voglio fare un milione di euro in un mese al primo mese, perché è impossibile. Ok, non puoi dire nemmeno voglio comprarmi una Lamborghini, perché la Lamborghini non è qualcosa che tu puoi quantificare. Cioè non è una cosa specifica, ma non è qualcosa che tu puoi dire, ok, che significa comparsi una Lamborghini? Cioè quanti soldi devi fare per comprarti una Lamborghini? Tu puoi fare 200.000 euro di fatturato e buttarti tutti in Lamborghini, comparti una Lamborghini, ok? Però non hai un euro per comprarti il pan, cioè non ha senso, ok? Al contrario devi saperti mettere gli obiettivi giusti. Che significa questo? Se io ho un'agenzia, posso dire, ok, il mio obiettivo è prendere un cliente al mese, almeno, per un total di 12 clienti annui, ok? E avere almeno a fine anno 10 clienti che mi pagano mensilmente per il servizio. Se hai uno store di e-commerce, posso dire, ok, il mio obiettivo è raggiungere uno scontrio medio di 80 euro, ok? O di 70 euro, e avere una crescita del 20% mensile, per esempio, avere almeno un tot di clienti con questo scontrio medio e così via. Cioè avere dei numeri, ok, quantificabili, che tu sai che ovviamente se tu hai quei numeri, poi i risultati, quello che viene dopo ovviamente sono quantificabili. Sono tutto specifici, devi sapere esattamente quando raggiungi quell'obiettivo. Devono essere reali gli obiettivi, che devono essere fattibili. Ci sta avere degli obiettivi, la visione di lungo termine, ah, voglio diventare famoso, voglio andare a Dubai, voglio andare a Lamborghini, ci sta. Però non è una cosa, cioè tu come fai a quantificare quando sei pronto per andare a Dubai? Ok, non lo puoi fare. Ti servono delle metriche, delle KPI, possiamo chiamarle tipo KPI, appunto gli indicatori, che tu li guardi ogni mese, per esempio, se tu li raggiungi, magicamente dopo un anno, appunto, sei in grado di fare quello che vuoi fare, ok? Punto 3, eh, parentesi, i guru non ti spiegano come fare questo, ti dicono solamente fai, 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 e poi tipo tu pensi, ah, ancora Lamborghini non c'è, dov'è la mia Lamborghini? Esigo la mia Lamborghini, esigo il mio obiettivo per andare a Dubai, non posso farcela più, dove posso andare e così via, quindi non ti spiegano questo fattore. Anzi, ti dicono, compri il mio corso perché sei in grado di andare là, sarai come a me e così via. Numero 3, questo forse è estremamente, cioè, non dico che è più importante perché la consapevolezza secondo me è più importante, però questo è il secondo posto, eh. L'arte è sapersi arrangiare. Non aspettarti che ci sia sempre qualcuno a aiutarti, ok? A dire, ok, ti aiuto io, non ti preoccupare, o pagami o gratuitamente come vuoi tu. Non aspettarti questo, ok? Se ci fosse un modo per fare soldi e ci fosse una persona che sapesse qual è questa formula magica per fare soldi, sarebbe miliardare, sarebbe la persona più ricca al mondo. E tutti saremmo ricchi, ok? Tutti saremmo ricchi, ovviamente, perché tutti saremmo disposti a pagarlo, ovviamente, perché c'è la sicurezza di diventare ricchi. Ma siccome questa persona non esiste, il fatto è che purtroppo il fare soldi, diventare ricchi, devi capirlo da solo. C'è una cosa che tu capisci da solo come si fa. Io ti posso spiegare alcune cose che ho imparato, come io, come gli altri. Però lo capisci da solo. Cioè, sei tu in grado di capire, ok, i soldi si fanno così, ok? Sbloccare, quando sblocchi tu questa conoscenza, la capisci da solo, a poco a poco, facendo, appunto, errori su errori su errori su errori su errori su errori. Esperienza, esperienza, appunto, arriva il punto in cui capisci, ok, ho capito come si fanno i soldi, ok? Questa formula la capisci da solo. Non c'erano corsi che ti spiegheranno questa cosa perché non è una cosa che si può insegnare. Una cosa che comunque tu ci arrivi e poco a poco arrangiandoti. L'arrangiarsi è importante anche nel lavoro quotidiano. Io, ad esempio, ho comprato il Mac. Mi è arrivato il Mac. Ieri mi è arrivato, ok? Era un po' un casino, cioè non capivo esattamente come si facesse, come si configurasse il Mac. Ho avuto un po' di difficoltà. Io potevo, al minimo, al primo errore, potevo mettere, ah, scusa, scusa, vado su Telegram, il gruppo Telegram. Ragazzi, come si fa questa cosa? Non l'ho fatto perché non è così che si faccia. Io ho un problema, ok? Vado sulle impostazioni, capisco come si fa, leggo, vado su Google, cerco, vado nei forum, affinché non capisco qualcosa. Cioè, devo essere io ad arrangiarmi e capire come risolvere quel problema, ok? E l'arrangiarsi, risolvere i problemi da solo, è essenziale, secondo me, ok? Perché ti fa diventare più intelligente. Cioè, tu fai lavorare la tua mente come i problemi che facevano fare a scuola. Ok? Se tu hai un problema e te lo fanno sempre gli altri, non riesci a risolvere i problemi, ok? Se invece tu hai un problema e ragioni, tu dici, ok, questo è il problema. Devo riuscire a far funzionare la mia mente, la mia testa, a ragionare e far funzionare il problema. Ok? I problemi a scuola di matematica non servono a farti imparare le cose di matematica, servono a questo. Servono a insegnarti l'arte di arrangiarsi, in poche parole. L'arte è di far funzionare il cervello da solo. Diventi più intelligente, ok? Perché impari l'arte nel risolvere i problemi. L'intelligenza, semplicemente, è l'abilità nel risolvere i problemi. Tu, più sai risolvere i problemi più velocemente, meglio li sai risolvere, ovviamente, più intelligente sei. Tutto qua. E questa è l'intelligenza, ok? Quindi, saper risolvere i problemi da solo, ci sta. Poi, se è proprio un problema che tu proprio dici, passano mesi, settimane, non sai come fare, ovviamente ci sta a chiedere. Ma se tu al minimo errore dici subito, ah no, chiediamo, perché non voglio sforzarmi di cercare una soluzione da solo, ovviamente lì sei perso. I guru fanno questo. Cioè, non ti insegnano ad arrangiarti. Ti dicono, ok, guarda il mio corso, con questo corso c'è tutta la conoscenza. Appena tu vedi il corso, fai qualcosa, ti sporchi le mani, il primo intoppo che tu hai, che non c'è la lezione nel corso, dici, ah, no, sono confuso. Aspetta che chieda il gruppo, aspetta che chieda il supporto. Chieda il supporto e ti risolve il problema del supporto. E cosa fai quando non ci sarà più il supporto? Cosa fai quando non ci sarà più il gruppo Facebook del corso che tu hai comprato? Ok, ti fai, dici, ok, basta, chiudo tutte le cose, chiudo lo store, chiudo il business, non posso fare più niente, cosa fai? Ok, quindi il sapersi arrangiare è estremamente importante nella vita in generale, in qualsiasi ambito, per appunto capire davvero come muoverti. Cioè, non c'è nessuno che te lo spiega. Io posso tramandarti alcune cose che so, però la parte pratica poi, ok, la devi capire da solo, ok? E' come andare in bicicletta, ti posso spiegare, ti posso fare vedere, ma poi, non appena tu sali e cominci a pedalare, a poco a poco capisci come tenere l'equilibrio e come pedalare, tutto qua. E questo si fa in tutte le cose, nella macchina. Io mi ricordo quando ho imparato a guidare la macchina, quello mi ha spiegato come guidare, mi sono visto i video, mi sono fatto questo. Cioè, inizialmente ci andavo e non capivo come fare, ovviamente, però poi facendo, ho capito da solo, arrangiandomi, andando da solo in macchina, arrangiandomi, ho capito appunto come si porta la macchina, l'auto. Tutto qua è questo. Purtroppo però queste cose, non mettersi gli obiettivi giusti, la consapevolezza in se stessi, una vera consapevolezza in se stessi. E l'art di essere persi a arrangiare, purtroppo, i guru non ve li spiegano perché dicono, ah, è tutto facile, si, tranquillo. Non c'è bisogno della partita d'iva, è facilissimo. Non ti servono soldi, compri il mio corso, si, compri il mio corso, non ti servono corsi. Soldi. E poi ti rendi conto che hai perso tutti i soldi. Purtroppo è così. Va bene? Dai, mi raccomando, squadra. Occhi aperti sempre perché c'è gente davvero senza i petal là fuori, peggio di quelli tipo degli scam di cripto a pari, ok? Quindi, raccomando, siete attenti, in descrizione trovate tutti i link. Iscriviti anche al pugnale, la mia newsletter che è nuova, il pugnale.com, ti piacerà di sicuro perché appunto tutti la amano, la mia pugnale. Stiamo crescendo a dismisura. E noi ci vediamo al prossimo video, baby. Bye.